Letizia Lisi, presidente dell'associazione Il Melograno. Beh, il mare come musa ispiratrice dell'arte, della pittura, il mare come realtà vitale per Taranto e per i comuni del suo Interland. In primis Leporano. Sì, abbiamo voluto con Leporano fare il gemellaggio con Martina perché vogliamo che sia un territorio unito e con la pittura e il nostro contributo di artisti è quello che possiamo dare con la pittura e con i poeti, la poesia. In questa occasione la nostra è un'associazione artistica quindi il nostro percorso è artistico però ci è piaciuto l'inserimento e il gemellaggio con questa associazione per poter promuovere il nostro meraviglioso territorio. Un mare che deve essere anche la fonte di sviluppo, di crescita per Taranto. E quello che noi ci auguriamo è che vogliamo partire dal mare, dal suo territorio, dai suoi colori, dalla sua fonte, dalla sua ricchezza per dare alla nostra Taranto la bellezza che ha sempre avuto e farla risplendere della bellezza della Magna Grecia.